è la mia cingu che si vergogna di apparire in questo video ma come cazzo lo guardi il video così mi spieghi? c'è un problema di... si vede non è possibile vabbè è vero vabbè è vero a Borià, cioè guardiamolo Arianna ha nome fittizi ovviamente lei ha inventato questo è il momento ultima lascia arrivare uguale a poi oh stai calma che Eric soffende sorry Eric guardalo con serietà allora ciao Mac dove ti guardi a che fai certo che ha proprio una brutta c'è una faccia un po' cioè malcontro che può sembrare che non dorme da dieci anni a me viene in mente Ina e sono tutta gravita vabbè lei sembra tipo bellissima ma perché hanno fatto tutto per il cellulare forse tipo burn it comunque solo le può stare bene con una francia così lunga a me sembrerebbero capelli sporchi l'ergi da dieci anni ma perché lei si è messa a fare canzoni tra l'altro lei perché questa c'ha una bella voce attendiamo sto tendendo con ansia che canti questa donna viene pagata più per fare faccia buffe che non per fare altro nella sua vita più o meno praticamente madonna madonna che ansia si cadrà o non cadrà qua è buono mi ricorda qualcuno tra l'altro un po' jyp si faccia se mi non faccia mai si no wow adesso tu mi è jyp vado abbassa ammetto oggi è questo un bellissimo uomo perché ridi perché ogni volta che dico jyp me lo ricordo in quella foto con io è caduta ma quando non l'abbiamo sentita non mi distrarre parli di jyp ma l'avete l'ultimo video jyp no adesso lo guardiamo insieme c'è questo il coro che stai facendo stai cantando in realtà è lei che sta cantando e basta e non canta più ma io non ho capito è una canzone fit a rik nam o è rik nam no è rik nam fit lei anche perché lui cantando tra i due si no non è un fit ma sono tutti un uomo e beh è però è un fit no un progetto che titolo è come è bravo dove lo farei già che cosa c'è scritto le mie labbra le mie labbra le mie labbra limano in coreano io ho l'amica che parla coreano e voi no ma quindi si sono frianzonati si sono frianzonati sono rimasta amareggiata fino all'aperta fino all'aperta adesso adesso mi ha fatto che mi ha fatto qui Grazie.